Si è conclusa l'operazione Mare Sicuro 2023. L'attività ha visto quotidianamente impegnati e pronti ad intervenire in caso di emergenze in mare oltre 100 donne e uomini del corpo delle Capitanerie di Porto, oltre 21 mezzi navali e mezzi aerei della Guardia Costiera dislocati lungo 650 chilometri di coste di giurisdizione della Sicilia orientale, comprese le isole Olie, le aree marine protette, Isola dei Ciclopi, Plemirio e Capo Milazzo. Ecco alcuni dati salienti. 132 persone soccorse, 38 unità navali soccorse, oltre 12.682 controlli effettuati a mare e a terra, 849 sanzioni amministrative, 39 notizie di reato, 5.837 metri quadri tra spiagge e tratti di mare abusivamente occupati restituiti alla libera fruizione. Il raffronto con i dati degli anni precedenti ha evidenziato una maggiore sensibilità e buonsenso dei diportisti e bagnanti nel rispetto delle regole del mare, segno di una sempre maggiore e costante consapevolezza dei fruitori del mare e dell'importante ruolo svolto dalla Guardia Costiera nell'attività di informazione e prevenzione. Una missione, quest'ultima, che rimane al centro degli obiettivi dal corpo delle Capitanerie di Porto.